Da oggi per visitare il parco archeologico di Sepino Altilia si devono acquistare i biglietti. Si può farlo online sul sito oppure in loco in due postazioni, una nella sede del museo. Costo 10 euro. Questa mattina diversi visitatori, soprattutto da fuori regione, che hanno trovato per l'occasione ad accoglierli il direttore del sito Enrico Rinaldi, che ha fatto loro da guida. Diciamo che eravamo anche stupiti che per visitare un luogo così interessante e così bello e così complesso anche non si pagasse un biglietto, diciamo. E quindi l'abbiamo pagato anche volentieri. Noi veniamo da Firenze e quindi sappiamo bene che bisogna... Vita Nova Marche. Sapevate che si pagava un biglietto? No, ma ci fa molto piacere. E' bene che posti così belli siano tenuti bene, curati e per questo ci vogliono i soldi. 10 euro sono troppi? No, assolutamente no, perché è tenuto molto bene. Assolutamente, sì sì. Anche posti devono essere conservati, quindi è giusto che si partecipi. L'area, tra le più importanti in Italia per le testimonianze archeologiche e storiche, da gratuita è dunque diventata a pagamento e questo ha provocato anche delle polemiche. Chiedo a tutti di darci fiducia e di essere lungimiranti. L'introduzione di un biglietto significa allineare questo luogo alle eccellenze archeologiche del nostro paese e adeguarsi agli standard europei. Gran parte di questi entroiti serviranno per la cura quotidiana di questo luogo, che vi assicuro è estremamente onerosa. E a me mi sono piaciute tutto questo santuario con le colonne, poi come sono state anche mantenute. Rinaldi poi ha tenuto a fare delle precisazioni in merito alla questione possibili recinzioni. Io al momento non ho intenzione di recintare, anche perché Sepino ha un privilegio assoluto che è quello di conservare le mura di età augustea, quindi ha il suo recinto. È chiaro che ci sono dei varchi, per cui i varchi, se necessario, potranno essere presidiati. Ma io credo moltissimo nella civiltà e nella lealtà dei visitatori e dei molisani stessi. Il sito è interessato da scavi che stanno portando alla luce nuovi reperti per il futuro. Intanto ci saranno novità. Il biglietto prevede un ingresso unico al parco archeologico e al museo della città e del territorio. C'è una fidelity card che abbiamo pensato per tutti coloro che ci vogliono dare una mano. Cioè con il pagamento di due biglietti con 20 euro si può accedere illimitatamente per 365 giorni l'anno. In futuro molti di questi spazi verranno destinati a nuove sale espositive. E novità sono attese anche sul fronte bandi per le guide. Allora aspettiamo tutti con grande ansia questo bando perché l'ultimo è stato fatto nel 2003. Entro il mese di gennaio, massimo i primi di febbraio, ci sarà una brochure con un QR code che verrà dato a tutti i visitatori attraverso il quale si potrà fruire di un audio guida e di podcast che guideranno appunto tutti i turisti all'interno della città. Grazie. Grazie.